E dalla fine è arrivato lo scipolone delle criptovalute, ragazzi, nella nottata di questa notte, insomma, eccetera. Oggi Emergezzi Video per parlare della questione legata a Matica, a Solana, a Binance Coin, che soffrono appunto della questione legata alla SEC delle ultime, diciamo, dell'inizio, forse, ragazzi, di quella che è una problematica un po' impattante su tante criptovalute e il fatto che Robinhood ha tolto il trading su queste criptovalute innescando un po' di panico, ma anche un oggettivo problema legato alla liquidità per queste criptovalute, c'è la paura che molti altri exchange e anche piattaforme di brocheraggio facciano la stessa cosa. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, siamo in Emergezzi Video, ragazzi, per questa questione, ma anche per il fatto che su Matic erano ormai mesi, che si aspettava la chiusura del ciclo annuale, che ovviamente arriva proprio in concomitanza con queste, magari, forti news, eccetera, con queste situazioni. È finito, non è finito, facciamo un recap un po' di quella che è la situazione, cerchiamo di chiarire un po' di punti, soprattutto andando a guardare Solana, Matic, Binance Coin e ADA, ragazzi, e anche un pochino di Ethereum per vedere queste cose e per fare un po' il punto su analisi ciclica e la questione legata alla regolamentazione. Prima di andare avanti, visto che ci siamo, non era previsto questo video, ragazzi, vi ricordo in ogni caso che fra due giorni scade l'offerta della riapertura dell'Academy, l'Academy Trading On, quindi, ragazzi, chiuderà lunedì 12 di giugno, quindi faremo questo test, stiamo facendo un test con gli iscritti, adesso, insomma, stiamo facendo gli iscritti, appena finirà questa fase, aprirò questo test, quindi di vedere come si trovano i nuovi iscritti all'interno dell'Academy, abbiamo preparato un mini percorso, giusto, un'introduzione di formazione per far capire un po' le strategie, è molto importante, secondo me, andare a valutare anche quelle che sono poi i servizi che abbiamo inserito, soprattutto, ragazzi, quelli relativi ai miei video di analisi ciclica esclusive, le operazioni mie personali, quelle che faccio sulla posizione holding, sono un trader estremamente lento, ve lo dico, ragazzi, non vi aspettate mille operazioni, io ne faccio pochissime, strategia monthly weekly, poi la fast spread che sta andando alla grande, tra l'altro è una delta neutrale, quindi proprio in queste particolari situazioni performa meglio, perché è un neutrale, appunto, al movimento del mercato, quindi solo sulla forza relativa. Tante cose anche all'orizzonte per l'Academy, anche delle news che arriveranno per quanto riguarda il Web3, questa riapertura, secondo me, è da cavalcare. Ragazzi, Academy 23, il coupon, 50 euro di sconto sul rinnovo per sempre, vi lascio il link in descrizione, non vi fate sfuggire questa occasione, ormai è un disco quello che faccio, però il video di oggi l'ho detto, vabbè, lo ricordo, anche questo, faccio la call to action. Allora, ragazzi, Matic, iniziamo da Matic, chiusura del ciclo annuale in corso, bella tosta ed evidente, sono passati mesi da quando abbiamo fatto l'ultimo video su Matic e ho detto a tutti che era una cripto che era meglio non preferire proprio per il fatto che fosse molto indirizzata verso la sua fase di chiusura dell'annuale. Attenzione, perché dopo la fase di chiusura dell'annuale inizia una nuova fase per queste criptovalute e possono essere ghiotte dal certo punto di vista, però, ragazzi, ok, bisogna specificare alcune cose. Se non si tratta di ETH e Bitcoin, tutto il resto va maneggiato con cura ogni, non so quanti, ogni tot settimane, lo devo ribadire, da 5 anni su questo canale, ogni tot settimane ricaschiamo tutti nella stessa situazione. Perché va maneggiato con cura, ragazzi? Perché le chiusure cicliche, quindi se parliamo solo di analisi, le chiusure cicliche di un annuale, a prescindere da quello che è la qualità della cripto XYZ, potrebbero innescare delle forti pressioni di vendita molto importanti. L'ultimo ciclo annuale di Luna è fallita, Luna, ragazzi, quando ha chiuso il ciclo annuale. L'ultimo ciclo annuale di Bitcoin è stato chiuso con il fallimento di FTX. Il ciclo annuale del 2019 è stato chiuso con la pandemia del Covid. Quindi ricordatevi che quando si innescano queste cose, i mercati, quando sono in una fase ciclica negativa, aspettano proprio le news per empatizzare tutta quella fase ciclica, esasperarla, ragazzi, portarla agli estremi, far scorrere il sangue sotto i ponti, come diceva Warren Buffett. E questo è concettualmente il discorso. Quindi andare contro trend in un momento del genere è non pericoloso, è una follia, ragazzi. Poi nel momento in cui magari a volte vi va bene l'operazione, può anche andare bene, ci mancherebbe. Però ragazzi dovete ricordarvi che in questo momento tentate di prendere un coltello che cade e tentate di prenderlo dal manico e poi rischiate di fare questo. Se non ci ho fatto male, io volevo, insomma, aggiungere un po' di 3D, insomma, questa cosa. Vabbè, allora detto questo, quindi quando facciamo le analisi ricordatevi ragazzi di non sottovalutare questi momenti. Allora, da un punto di vista tecnico, i numeri sono questi qui. Io non ho cambiato di una sola virgola questo grafico. Dall'ultima volta che l'ho mostrato, potete andarlo a vedere. E sono quattro cicli trimestrali di Matic, 1, 2, 3 e 4, che è l'ultimo, che è in fase di definizione. Questo dovrebbe essere l'ultimo ciclo trimestrale dell'annuale. Oppure, come ben sapete, essendo che gli annuali hanno una forte volatilità, il 20%, quindi anche 70-80 giorni di volatilità, ne fa un altro. E se ne fa un altro, questo che inizia tra poco è comunque ribassista. Quindi se questo avviene, e non lo sappiamo fino a quando non parte, questo movimento di chiusura dell'annuale non finisce tra poco. Questo è il discorso. Intanto mancano comunque alcuni giorni e fino a quando non si vede la chiusura di un movimento del genere, quindi un minimo recupero, bisogna stare attenti. Ci sono dei dati fondamentali di grande rilevanza, ragazzi. Io penso che alla fine si accorderanno, ragazzi. Però non sono folle che mi vado a mettere contro un mercato in chiusura di un annuale, con una criptovaluta, con le regolamentazioni, con la SEC, che è un po' nervosetta, è un po' arrotto le scatole, come si suol dire. E insomma, va bene, dovesse mollare il mercato Nasdaq, dovessero mollare Bitcoin e Ethereum, qui succede un bagno di sangue. E tra l'altro vi faccio vedere anche la questione del grafico della Total Market Cap della DeFi, che non è che è arrivata la chiusura dell'annuale, è entrata nella foresta di chiusura dell'annuale, ma lo chiude dopo l'estate, ragazzi. Questo un po' ci fa preoccupare e non poco. Quindi, chiusura dell'annuale in atto per quanto riguarda Matic e questo ciclo mensile è girato al ribasso. Teoricamente questo è un ciclo mensile che fa parte di un movimento a struttura che probabilmente sono eternaria, insomma, fatta in un modo un po' così. In ogni caso, dovrebbe teoricamente chiudere, io l'ho portato intorno al 15 di giugno, questa fase qui. Poi, una volta che chiude questo mensile, probabilmente inizia una nuova fase trimestrale, che potrebbe essere appunto la conclusione, quindi una lingua di buyer che conclude questo annuale oppure inizia il nuovo annuale. Poi lì va tradato solo con sistemi di, insomma, formazione. Ragazzi, se non siete formati per fare queste cose, non le potete fare. Dovete aspettare l'inversione di trend e poi entrate a cavallo. Quindi, in questo momento, cosa cambia su Matic da un punto di vista tecnico di dati? Allora, la questione della SEC va assolutamente vista, ragazzi, ma da un punto di vista tecnico sui grafici, quell'annuale di Matic prosegue al rialzo, perché il minimo di giugno 2022 non è stato rotto ancora. Il minimo è a 31,6, vi ci metto anche questa roba qui. Quindi, fin tanto che regge questo minimo, il ciclo annuale di Matic è rialzista, nonostante questa fase di bassista pronunciata, del motivo per il quale non si può non fare, diciamo, non avere un atteggiamento di trading, diciamo così, di prese di profitto, di bilanciamento delle posizioni, di diversificazione in termini di asset nel settore delle cripto. Perché anche se una criptovaluta come Matic, ragazzi, buona il progetto top, tutti gli accordi e bla bla bla, fa un annuale che è rialzista, ragazzi, non è neanche ribassista l'annuale, è rialzista, vi spara un meno 70% dai massimi e non ha neanche chiuso l'annuale, quindi non sappiamo se chiude adesso oppure ci vorrà qualche giorno. Questo ve la dice lunga sul fatto che come fate a tenere, cioè, chi di voi ha preso magari Matic a un dollaro e 5 perde l'80%, 70%, cioè, ragazzi, giusto per capire, insomma, è una follia, non si investe così, mai è stato, sì, si è investito così e mai lo sarà, va bene? Quindi proteggetevi, è meglio che date una lettura a due tecniche, a due libri, eccetera, al di là del fatto che poi magari si può dare questa cripto, ma quando inverte il trend, non contro trend, ok? È fondamentale. Tra le altre cose qui su Matic bisogna prima vedere la chiusura di questa struttura ciclica e poi ragionare su un fattore determinante ed estremamente pericoloso, cioè il fatto che se andiamo a ragionare in termini di ritracciamento di Fibonacci questo rimbalzo è salito allo 0,5% della precedente fase di bassista e quindi può innescare strutturalmente l'inversione di trend di lungo periodo se arriviamo qui giù, cioè se questo scende al di sotto del minimo che vedete nella zona verde, si inverte il trend nel lungo periodo per questa cripto, quindi a quel punto non solo abbiamo la chiusura dell'annuale, va bene, però poi abbiamo anche un'inversione di trend di lungo periodo, quindi dovremmo stare attenti. Quindi la situazione è pericolosissima, sono neutrale, flat, ho provato degli ingressi long che vanno malissimo perché sono contro trend, ovviamente ragazzi, su Bitcoin ed ETH con una piccola posizione non molto grosse, vanno in stop purtroppo, mi stanno rimangendo un po' dei gain che avevo fatto da novembre e mi sono anche un po' innerbosito, ma oggettivamente ragazzi in queste fasi se si vuole ragionare nel tentativo di prendere la fase di risalita bisogna seguire delle strategie, quindi io seguo quelle strategie, quando poi escono vado comunque in stop. Però non ho cripto di nessun tipo se non appunto i tentativi che sto facendo da trader su Bitcoin ed Ethereum e quindi non ho niente di tutto ciò, a parte i miei old storici Bitcoin che non venderò mai, ma quelli comunque sono un cimelio, d'altro li vedo. Allora, detto questo, quindi ragazzi fate attenzione, matic in chiusura del ciclo mensile, poi possibile ripartenza di un trimestrale che può essere il primo del nuovo annuale o l'ultimo del nuovo annuale, quindi se sarà l'ultimo sarà un bagno di sangue. La notizia ciclicamente parlando positiva è che il massimo matic che l'ha fatto nella seconda parte dell'annuale da regolamento teorico significa che può chiudere un ciclo annuale al rialzo. Questa cosa quanta probabilità ha di verificarsi? Non tantissima, un 52%, quindi ricordatevi che è probabile, però insomma non è che possiamo seguirlo alla cieca questo tipo di logica, quindi bisogna attendere la chiusura di questa fase. Passiamo a BNB. BNB invece drasticamente ridimensionata dopo l'attacco pesante ed importante nei confronti di CZ e di Binance della Fed con tutte le accuse e il fatto che Binance stesso ha dovuto togliere praticamente i prelievi di dollari e i depositi di dollari. Ragazzi non so se vi rendete conto della gravità di una costa del genere per un exchange e per la liquidità di questo exchange, ancora lì a me sembra questione dei violini sul Titanic. Credo che ne usciranno fuori, però un exchange che viene ridimensionato in questo modo senza una parte importante del mercato mondiale bisogna rendersi conto ragazzi che comunque verrà a breve poi, breve nel senso se non risolve questo problema, superato da exchange che invece magari inglobano tutte le operatività a livello di volumi parlo e questa cosa va valutata. Soprattutto se poi vanno in porto tutte le accuse anche da un punto di vista regale nei confronti di Binance. Non mi voglio esprimere prima del tempo perché è una situazione che andrebbe estremamente approfondita e nessuno veramente sta a cosa c'è dietro ragazzi, quindi su questo non mi esprimo. Mi esprimo invece sui grafici che sono molto più interessanti, cioè anche come Matic, se vi ricordate, BNB deve chiudere il suo annuale e questa è una cosa del ciclo annuale. Identico come una fotocopia a Matic, la struttura ciclica di BNB, di Binance Coin. Quindi abbiamo necessità ragazzi di avere la chiusura di questa fase, la ripartenza di uno nuovo mensile barra ciclo trimestrale che può essere o il primo dell'annuale o l'ultimo dell'annuale, quindi primo del nuovo annuale o ultimo del vecchio annuale. Se è l'ultimo del vecchio annuale questa struttura ciclica sarà ribassista e inevitabilmente in questo caso secondo me andrà a intaccare il minimo di giugno 2022 configurando una biannuale ribassista da bear market per le cripto, bitcoin no, ma le cripto sì ragazzi perché stanno tentando di fare questo. Molte cripto come ADA per esempio, la vediamo tra poco, hanno già un biannuale ribassista quindi è una ipotesi che su bitcoin ancora in molto lontana la valutiamo solo se bitcoin rompe i minimi di novembre, però io al momento non mi sento di avballare quella idea perché secondo me nel momento in cui le altcoin dopo giugno, come vi ho fatto la testa tanta di aspettare giugno, dopo giugno potrebbero appunto innescare questa fase di ripresa per il nuovo ciclo annuale, dobbiamo attendere quella fase lì per capire se bitcoin gli dà un po' di spazio, però questa è importante ragazzi, questa fase era importante da andare a vedere, infatti avete visto giugno come un orologio svizzero che cosa ha combinato, che cosa sta combinando su queste queste cripto, quindi su Binance Coin attesa assolutamente insomma per la questione legata alla chiusura del ciclo trimestrale, poi vediamo il prossimo trimestrale che andrebbe in chiusura intorno a settembre-agosto ragazzi, quindi bisogna capire se questa fase verrà allungata fin lì, secondo me è un po' lunghetto fino a qui però ci può tranquillamente stare, anche qui abbiamo una possibile figura di inversione che deve essere presa in considerazione perché qui se scendiamo sotto questo minimo è invertito il trend di lungo periodo anche su Binance Coin, parliamo di cripto estremamente forti ragazzi, non di cripto così, quindi non stiamo parlando di Pepe Coin o cose del genere, va bene? Andiamo a vedere l'altra cripto che doveva chiudere la struttura annuale ed era Solana, Solana che era, non lo vedo più, ecco l'ho persa, eccola qui, allora Solana ragazzi, in dubbia Solana, perché? Perché in realtà la struttura ciclica di Solana è sempre stata un mio pallino, se vi ricordate mi dicevo non la centro bene, no, non riesco a capire bene perché dopo il disastro di novembre non si è capito se effettivamente avesse allungato facendo una specie di lingua di barrier in questa zona una chiusura del ciclo annuale oppure l'avesse chiusa qui. Strutturalmente una chiusura di un ciclo annuale a 327 giorni per una criptovaluta è un po' poco ragazzi, però è vero che qui c'era stata la sinergia con tutte le altre cripto e che qui in realtà il vero vero minimo era avvenuto, vedete, intorno a maggio 2021, anche se era una shadow, poi l'ha incluso il minimo l'aveva fatto qui, però insomma ci può stare questa questione anche perché moltissime cripto hanno fatto il minimo a giugno 2022, quindi se lo ragioniamo da questo punto di vista qui è stato chiuso il semestrale e adesso stiamo andando a chiudere l'annuale anche su Solana che porta in pratica se lo configuriamo in maniera standard più o meno 1 agosto-luglio 2023, avete capito bene, ve lo ribadisco, agosto-luglio, quindi serve 1-2 mesi per vedere definita questa fase, quindi solo ed esclusivamente il superamento dei 27.000 dollari anche su Solana innesca una tentativa di recupero e il fatto che qui sia realizzata una nuova fase ciclica completamente diversa, al momento non è così perché il superamento di questa zona di massimo non è mai banuto, è tra l'altro distantissimo e quindi questa criptovaluta ha un annuale al momento al ribasso che deve ancora andare a chiudere sotto il minimo di novembre 2022, quindi teoricamente se questa centratura ciclica è corretta, se non ha truncato a novembre ragazzi Solana va giù fino a toccare, a fare un doppio minimo vicino al minimo sotto il minimo, cioè quella zona lì, ve la faccio rivedere, in questa zona del minimo deve andarci, va bene? Deve andare qui a chiudere l'annuale e se lo fa a quel punto starà chiudendo l'annuale, se non tocca questo minimo, allora l'annuale è stato chiuso qui ragazzi, va bene? Quindi non c'è più fuga da questa cripto qui, va bene bisogna attendere, attenzione perché anche qui c'è un discorso notevole, se qui diciamo ha chiuso un ciclo trimestrale, parte nuovo trimestrale, quindi tra un po' potremmo avere anche una fase di tentativo di recupero, che è proprio la chiave di tutto ciò ragazzi, perché vedete se io ho un trimestrale nuovo da qui, poi a questo trimestrale resta il compito di dare il segnale, cioè se qui facciamo il rimbalzino del gatto morto poi si va in chiusura così, se invece questo trimestrale è forte e prende una fase rialzista che può avvicinarsi qui, allora siamo in close annuale avvenuta in questo punto, in tutti e due i casi, questo trimestrale è sicuramente può essere tradato solo da trader, perché la fase qui sarà abnorme, piena di volatilità e tutto il resto è iperpericolosa, quindi i trader potrebbero decidere di tradare questo trimestrale, ma ragazzi chi non sa fare queste cose, io personalmente non do consigli finanziari, però dico di stare fortemente attenti, queste non sono fasi per chi diciamo non ha la formazione corretta ragazzi, chi ha la formazione corretta invece a dire la verità in questa fase potrebbe anche giovare molto, perché in una situazione anche di chiusura dei cicli annuali che ancora deve avvenire, poi lì un po' no, facciamo incetta quando arriva, però non è questo il momento, manca ancora un po', io starei con i piedi di piombo. Passiamo ad ADA velocemente e andiamo a vedere la questione di ADA, perché ADA ragazzi ha una struttura ciclica già ribassista ed è un annuale già ribassista, allora già ADA di suo, diciamo, è una cripto particolare, quindi insomma, ok, questo però il grafico di Kraken, io volevo prendo quello di Binance ragazzi perché fino a quando c'è è ancora più liquido, vabbè, allora scherzi a parte, allora la struttura ciclica teoricamente vedete com'è strutturata e qui è difficile da andare a comprendere, perché se siamo in un nuovo ciclo annuale è identico a Solana, vedete, se siamo da qui, iniziato diciamo la struttura ciclica, qui è un annuale ribassista, qui è un annuale ribassista, ma è troppo lungo se li facciamo insieme, insomma, sostanzialmente la questione che conviene più di tutti fare ragazzi è andare a inserirsi un B annuale diretto intorno agli 800 giorni più o meno in questa zona che ci riporta sempre ad agosto, luglio-agosto, alla nuova area di chiusura di tutta questa fase, luglio-agosto, come BNB, come Matic e come Solana ragazzi, va bene, cioè Matic può chiudere anche prima e tentare un recupero come vi dicevo ragazzi, però il trimestrale in questione che porta poi a fine agosto bisogna vedere quello che fa, perché può essere anche l'ultimo dell'annuale, queste crypto invece che sono molto più deboli sono tutte in versione short, questo è il minimo lo ha già rotto qui, quindi non c'è possibilità che qui sia iniziato un nuovo annuale, se è iniziato comunque un nuovo annuale qui ragazzi scende fino alla fine dell'annuale, questo significa una cosa di questo tipo, perciò intanto io direi che posizioniamo una bella scadenza ciclica intorno a luglio-agosto, ci posizioniamo qua il nostro scacchiere classico, questa dovrebbe essere la zona di chiusura di questo movimento, non zona di prezzo, zona temporale, a livello di prezzo questa ha già rotto i minimi, quindi abbiamo dei livelli che sono questi, che sono livelli di supporto, poi livelli tecnici che sono in questa fase qui e poi il finale che è un altro livello di supporto che vi ho posizionato qui, mi inserisco anche nella watchlist questa ADA e non quella di Kraken. Passiamo infine a vedere ETH, perché su ETH c'era anche il dubbio se Ethereum potesse andare in close o meno del ciclo annuale o sì o no, perché ETH diciamo è la struttura anomala, allora o qui è stato chiuso un annuale con una lingua di buyer corta, si definisce così, oppure è l'annuale quindi iniziato qui con Bitcoin a novembre, oppure ragazzi dobbiamo andare vicini a questa zona e capite bene cosa significa, cioè solo secondo me una notizia di Ethereum e una security innesca una spirale ripassista di questo tipo su ETH. Al momento quello che si vede su ETH è la chiusura del ciclo mensile e del trimestrale in questione che è identico a Bitcoin. La rottura dei minimi avvenuta oggi, dei minimi del 12 maggio, innesca il concetto che questo è un mensile ribassista. Mensile ribassista che è sufficiente anche per chiudere l'eventuale fase del trimestrale e poi dell'annuale. Non credo che ci sarà possibilità per ETH di performare da sola se le altre cripto invece vanno pesantemente down, soprattutto Matic. E poi vi faccio vedere questo grafico, poi lunedì aggiorniamo anche alcuni altri grafici, soprattutto per esempio una scadenza fondamentale sulla dominance di Bitcoin, quindi non mancate l'appuntamento di lunedì, sarà importantissimo, la dominance di Bitcoin che è fondamentale. Questo invece è il total market cap della DeFi che vi parla chiarissimo, questi sono due annuali in chiusura, saranno probabilmente bearish entrambi, uno è già diventato ribassista, quindi qui abbiamo un biannuale al ribasso dove vanno a finire queste cripto. C'è solo questo minimo che dobbiamo andare a guardare e vedete come un po' smussa tutti i ragionamenti che abbiamo fatto finora, cioè se qui è stato chiuso un movimento importante, molto lungo per essere ribassista come unica annuale ed è iniziato un nuovo annuale, allora qui sotto non ci arriva più. Ma a questo punto dalla prossima fase di ripresa dobbiamo già vedere molta forza del settore delle cripto, altrimenti in sostanza stiamo andando a fare quello che vi ho spiegato prima su Solana, cioè questa è una parte così, dopodiché inizia e poi chiude l'annuale probabilmente in questo modo. E quindi va a chiudere i giochi sempre, indovinate un po' in che data? Luglio-agosto. Ma ne parliamo nelle prossime, nei prossimi video. Academy in apertura ultimi due giorni ragazzi, non ce ne stanno più dopo, poi vedremo cosa fare, vediamo in base anche ai ragazzi che sono entrati come si stanno trovando eccetera, quindi poi decideremo se riaprirla o meno al pubblico. Intanto non fatevi scappare questa occasione anche perché sarà proprio quella che ci accompagna a queste scadenze che vi dicevo. Se siete un po' formati è meglio, Academy è sempre un po' meglio per quelli un po' formati. Ciao a tutti, buon weekend e speriamo tra virgolette si fermi qui questo bagno di sangue. Ciao!